Un saluto da Iello e bentornati ai nostri micropoli, ciao! Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, tutto bene. Diciamo che parlavamo un po' di onda del fatto che è estate e bene o male, ora con l'estate ci hai proposto un singolo dal sapore decisamente estivo, ma che comunque rimane nel mood che abbiamo conosciuto grazie per il canale. Assolutamente sì, è il mio modo di vedere l'estate. Tu sai, ormai ci conosciamo da un po' e sai che io non amo le etichette, però volendo per forza trovarne una, è il mio modo di vedere l'estate un po' definirei una sorta di urban meridionale, quindi proviamo a restare comunque in questa stagione a dare una proposta della propria musica senza cadere nei cliché comunque stagionali, però facendo ballare. Guarda, io credo che comunque ormai chi conosce te, chi conosce il tuo percorso ha capito comunque quello che è, tra virgolette, il tuo mood, ma anche lo scorso anno, per esempio, quando vieni a ballare, hai proposto un brano che è andato molto bene dal punto di vista poi anche delle certificazioni e comunque hai fatto ballare anche in quel senso, ma comunque restando te stesso, senza andare per forza a cercare comunque un qualcosa e anche una definizione, ma credo che sia quello poi anche il tiro conduttore che lega quello che è il tuo percorso. Assolutamente sì, ognuno fa quello che gli viene meglio, che gli piace fare, no? E io dico sempre in maniera simpatica che non sono uno che riesce a scrivere tormentoni, no? Però ho stima di chi ci riesce, no? Perché nella stagione estiva ognuno è come se si dovesse sentire costretto a scrivere una roba di un certo tipo. Io non ce la faccio, scrivo una canzone semplicemente che fa ballare e la propongo. E anche questa volta ho fatto questo tipo di scelta. Poi la mia speranza è che possa diventare la canzone dell'estate di tantissime persone, al di là di come uno poi la voglia definire. E questa qui sicuramente farà ballare. Ha fatto ballare tutta la cri durante le riprese del videoclip e già questo per me era un ottimo segnale, le persone vicino a me che l'hanno sentita, quindi speriamo che faccia ballare tutto. Beh, senti, sono comunque anche, mi è piaciuto come hai affrontato il testo perché tratta argomenti che sono universali, ma in un momento come questo credo che assumano un'ulteriore importanza, un'ulteriore valenza. Assolutamente. Diciamo che non è mai abbastanza di discorsi, di tematiche. Io credo che anche in una canzone che poi esce d'estate e che ha un'evidente, come dire, propensione alla leggerezza, no? Perché si balla, perché uno la immagini in una festa, in macchina, con gli amici, in un club, eccetera, eccetera. Non è detto che per forza bisogna parlare di cose leggere nell'accezione invece negativa. Questa è una canzone che io ho definito una canzone libera e nel voler far ballare, nel raccontare alcune cose, comunque lancia dei messaggi molto precisi. Io ho fatto uno spoiler qualche giorno fa su Instagram dicendo e se è peccato darsi amore tu non ballare questa canzone. In realtà è proprio un pezzo, è un verso della canzone, secondo me proprio il concetto emblematico, un po' il manifesto di questo pezzo, che vuole evidentemente raccontare e invitare tutti a essere particolarmente liberi di essere, di scegliere e ovviamente di amare. Senti, sono ormai passati tre mesi dall'uscita di Meridionale. Tu credi che comunque il pubblico abbia recepito il messaggio, quello che avresti voluto dire, quello che era il tuo obiettivo? Credi che il pubblico sia arrivato? Credo di sì, spero di sì. Meridionale in realtà poi ha, come dire, una vita molto più lunga di quella che possa sembrare perché sì, come dici tu, è uscito a marzo ma è iniziato lo scorso anno, convienimi a ballare. Quindi il racconto di questo lato della mia personalità e anche della musica che volevo condividere è già da un anno fuori, vienimi a ballare, che canzone siamo, poi la parentesi serremese, è uscito il disco e adesso c'è Fino all'alba ti sento che farà parte comunque di Meridionale. Credo io di aver dato, come dire, tutto quello che volevo per raccontare questa parte di me, questo aspetto e spero che sia arrivato. Poi ovviamente non ho, sì, ho una, credo di sì, però il massimo della, come dire, della consapevolezza lo avrò in live, quando vedrò l'entusiasmo vivo e reale al momento delle persone che canteranno i pezzi. Quindi, speriamo bene. E anche quello comunque sarà un momento libero, perché poi tu hai scritto sui social, ti immagino liberi come quando cantati in macchina o sotto la doccia, con la differenza che stavolta ci sono anch'io con voi. Beh, un messaggio chiaro anche di quello che sarà l'acrosfera per vivere nei live. Come dire, molto originali rispetto all'idea di concerto che abbiamo tutti quanti e quindi purtroppo ad estate saranno ancora con le maschine probabilmente o comunque ci saranno dei distanziamenti. Questo non deve limitare però la voglia di cantare, la passione, la voglia di muoversi. Se non ci potremo alzare, muoveremo i piedi, muoveremo le braccia. Insomma, io credo che ognuno di noi quando voglia di comunicare, di condividere, di divertirsi e quindi saranno comunque dei live assolutamente pieni di energia, di passione, di grande patos, di emozione. Ovviamente poi ci si augura che poi nei club, per il tour autunnale, saremo ancora più liberi di poter stare in una, come dire, in una condizione un po' più comune. Però bisogna ripartire. Abbiamo tutti voglia di musica live, sono convinto che tutti faremo un piccolo sforzo nell'accettare una condizione che non ci sia. in casa. Assolutamente. Senti, l'ultima domanda è legata comunque al Festival di Sanremo. Pensi che la percezione di te sia cambiata? Pensi che comunque di essere riuscito a esprimere davvero quello che sei, su quel palco e poi anche subito dopo, cercando di avere un pubblico anche maggiore? Allora, sicuramente Sanremo allarga, quindi ti dà l'opportunità di affacciarti su un pubblico più grande. Per me è stata una grande fatica, per una serie di situazioni che si sono verificate, secondo me alla fine con grande fatica è arrivato il mio modo di essere, la mia vocalità è la mia proposta musica, un quadro gigante ed è una primissima, larghissima occasione. Il resto lo fa ovviamente giorno per giorno, il rapporto con i fan, la musica che esce, i live che devono partire. Quindi è sicuramente stata un'esperienza molto intensa, superata per fortuna e quello che vedo intorno è un grande affetto, un grande interesse e questa è la cosa più importante per me, per chi fa come me e per chi aspetta di vivere la musica in maniera normale come me, perché io ho avuto il mio primo grande momento, che purtroppo neanche un anno, neanche mezzo anno, sono stato in lockdown, quindi la mia cosiddetta carriera la volevo vivere come hanno fatto anche gli altri, in maniera più lineare e anche più normale perché ho bisogno del contatto fisico con le persone, come loro hanno bisogno di vivermi in maniera più diretta, quindi siamo pronti per ritornare alla grande. Grazie mille, buona musica e a prestissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.